Questo è il terzo anno che si svolge Urban Pomegrin nel settembre a Venezia. Il tema è affrontato dall'Istituto Nazionale di Urbanistica con l'intenzione di valorizzare le molte componenti culturali, disciplinari e professionali che determinano lo stato dell'ambiente e il suo cambiamento. In qualche modo cerchiamo di rafforzare l'approccio multidisciplinare a queste tematiche dando un contributo ad una fase cruciale del governo del territorio e della risposta al cambiamento climatico che l'Italia come gli altri paesi più sviluppati è tenuta ad offrire quest'anno e negli anni prossimi.